La voglio prendere con lui, la cominci pure a spillare questa birra, è una birra che ha un nome prezioso, si chiama Oro Quindici, Campi Freirei, hanno vinto come miglior birra votata da tutti, ma non è solo Lucevo, Nové Novara, Lasca, Milano e Genova, con lui complimenti al Campi Freirei che hanno vinto questa votazione, ce l'ha popolato, lui inviterei sicuramente, sono i due, sono belli da vedere, sono bravissimi, direi di venire qua sul palco, tanto quella birra ci pescevano dopo, la riconosceggiate, ma direi che, mi chiamiamo, sono stati molto bravi, ci vanno la pratica di questa votazione, la gente ha scelto, abbiamo accontato le tante, ci sono fatti un mazzo e tre giorni per comprare queste birre, complimenti ancora, bravissimi, da dove arrivate, come siete, tappate, è il mio bene. Allora, arriviamo dalla provincia di Napoli, che solo per questo sentivamo un polemico, diciamolo subito, ci siamo fatti un po' di strada, volevamo tutti i nostri esserci qui, e lo dico sottolineando perché adesso che lo sa, abbiamo iniziato la nostra manifestazione, perché il nostro paese amato è iniziato al progetto di nove e tre milioni e quattro, quindi, la birra che ha vinto, è semplicemente, o in America con il popolo e campi segrei, che è la zona dove veniamo con il provincia di Napoli, o meglio, le sport di limoni del mio giardino, io allo stesso, lo racconto sempre, e per sempre, quando dovete a via via, da voi, ti chiamate così, mi sfido al provato, vado col cesto del mio giardino, pure i limoni, che non sono trattati da nessuno, quindi, di tutto il genere, è veramente, da me, così mi piace bene, è più un vantaggio, è più un vantaggio. Grazie.